Presidente, grazie Francesco Luongo del Movimento Difesa del Cittadino, noi ringraziamo la Commissione, abbiamo depositato un documento a cui ci riportiamo integralmente, veramente solo i titoli come diceva lei, Francesco Luongo, Movimento Difesa del Cittadino, documento agli atti, solo dei titoli come appunto si diceva, viva le liberalizzazioni, lavoriamoci bene nell'interesse dei cittadini e non solo delle aziende, insieme comunicazioni, non fate rientrare dalla finestra quanto uscito dalla porta, interrompiamo e approfondiamo per quanto riguarda turismo, servizi e trasporto, cominciamo a guardare seriamente alla modifica della legge 2192 per quanto riguarda il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici, le piattaforme online di servizi di noleggio che sono offerte oggi dalla famosa società Uber Italy etc., devono cominciare a essere riconosciute, su queste va fatto un ragionamento in termini di Commissione, grazie. Grazie, grazie. Gianluca Di Ascenzo, Codacons, ho telegrafico, due titoli, due cose che non ci sono nell'IDL, uno i farmaci di fascia C, mi associo a quanto è stato detto prima, e poi mi associo a quanto è stato detto da lungo poco fa per Uber e quindi i servizi alternativi, sarebbe l'opportunità di regolamentare. Grazie. 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 Grazie.